come vanno gli affari in questa fase l'emergenza coronavirus apertura dei centri commerciali insomma non è semplice ma voi andate avanti andiamo sempre avanti però è dura essere più dura perché quando ci aprono questi centri così grossi diciamo che qui non siamo nemmeno abituati è dura è dura durissima speriamo che vada meglio che adesso magari riaprono qualche ristorante qualche bar così le persone cominciano a girare di nuovo diciamo e di riprenderci comunque è dura a secondo lei qui il centro storico di peteroba ha sofferto molto questa fase beh il primo mese e mezzo è stato durissima non dura io parlo per me è dura fortuna lavoro io con mio papà quindi in qualche maniera ce la facciamo ma se avessimo qualcuno anche da pagare sarebbe in casa integrazione è è un momento un po' particolare un po' difficile c'è stata una calma nel commercio noi cerchiamo appunto di specializzarsi e di creare un rapporto con i clienti di fiducia la gente viene si viene accolta e viene specializzata abbiamo specializzato in vari settori mercerie vendete voi quindi giornali giornali libri cartoleria mercerie un po' di abbigliamento intimo quindi un po di tutto quindi è un bazar dove uno entra trova un po di tutto il rapporto che in tutti questi anni avete instaurato quella clientela ha fatto la differenza in questa fase la differenza è un rapporto fiduciario e la gente si trova bene quindi il nostro porto è basato su queste su queste fondamentali cose lei è speranzoso per il futuro bisogna essere sempre positivi esatto quindi speriamo anche con questa campagna vaccinale che la gente possa muoversi di più apertura un po di più e quindi siamo qua noi siamo pronti per al servizio del cliente in quella che possiamo definire la seconda fase dell'emergenza coronavirus i bar come il vostro i ristoranti qui a pederoba quanto hanno sofferto parecchio tenendo chiuso due mesi stiamo andando proprio male male qual è la soluzione che voi sperate che il governo applichi per voi insomma la possibilità di avere soli tavoli all'aperto vi basterà no anche perché se piove dove li mettiamo i clienti dovremmo speriamo che ci facciano prima anche dentro perché sennò qui non sappiamo cosa fare sinceramente e la clientela quella storica le persone che vi hanno sempre dato fiducia vi hanno sostenuto anche in questo momento sì parecchio per fortuna ci sono stati loro che altrimenti non so come andare avanti beh sicuramente qualcosa qualcosa inciso l'apertura del tosano diciamo che vendendo noi personalmente un prodotto che non si trova così facilmente comunque per quanto sia il nostro tipo di prodotto anche all'interno di per tosano noi ci salviamo lo stesso comunque qualcosina avendo tutto una produzione comunque sia di prodotto cotto lì non si può trovare quindi per noi ha inciso e anche no l'apertura del tosano mentre la seconda fase dell'emergenza covi l'avete sentita l'abbiamo sentita l'abbiamo sentita fortunatamente non in maniera eccessiva ma ovviamente come penso anche tutti tutti gli esercenti anche per noi c'è stato c'è stato un calo e qui a pederoba la gente esce o insomma fanno fatica a ritornare alla normalità fanno tanta fatica a ritornare alla normalità soprattutto tenendo conto una certa fascia d'età ovviamente magari sono molto più impauriti persone di una certa età sono sono decisamente più impauriti rispetto ad altre fasce d'età che magari rispetto alla prima ondata diciamo danno anche un po meno peso a questa cosa grazie a tutti grazie grazie grazie